Penso che abbiate preso quasi tutti i posto. Io inviterò i sindaci, come già in verità hanno fatto, ad accomodarsi sul palco per dare il via a questo incontro. Buonasera e benvenuti a Rocca d'Aspide, grazie per la vostra notevole partecipazione, ma naturalmente grazie per questa inconsueta e naturalmente graditissima visita al Presidente della Giunta regionale della Campania, l'On. Stefano Caldoro. Questa sera, Presidente, ad accoglierla. Ci sono tanti cittadini, ci sono tanti amministratori, naturalmente amministratori di aree diverse tra di loro. Ci sono territori della Valle del Calore, della zona degli Alburni, del Monte Stella. Insomma, un territorio molto vasto, contraddistinto da risorse simili e anche, perché no, da problematiche simili. Le vuole sintetizzare naturalmente il Sindaco Girola Moricchio nel suo intervento. Io devo chiedervi scusa per il ritardo. Come sapete c'è stato un funerale. Ieri è deceduto un mio caro amico di 64 anni, dipendente dalla comunità mondiale, per cui ho chiesto al Presidente di posticipare l'arrivo. Buonasera a tutti. Ringrazio e saluto con immenso piacere il Presidente della Regione Stefano Caldoro, per averci gratificati della sua presenza qui questa sera, anche perché è la prima volta che il Presidente viene nel nostro territorio. Saluto tutti i sindaci, i Presidenti della comunità mondane Calore e Alburni e tutti gli amministratori presenti che ringrazio. Un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili Urbani, alla Protezione Civile per il loro apporto che ci danno. Il tema di cui discuteremo questa sera sono le aree interne. È un argomento molto importante. Ritengo però che ancora più significativo sia il fatto che il Presidente della Regione incontri i sindaci e amministratori locali direttamente nei territori di loro competenza, verificando di persona e concretamente le reali condizioni dei territori regionali. è una pratica molto positiva che, devo dire, il Presidente Caldoro ha già in parte sperimentato ed attuato fattivamente, perché numerosi sono stati gli incontri che si sono avuti con i sindaci e gli amministratori regioni sui diversi temi agli enti locali e alle problematiche dei vari territori. Il fatto però che questa sera l'incontro avvenga in questa sede è molto positivo, in quanto il Presidente Caldoro ci onora della sua presenza e finalmente i politici iniziano a vedere concretamente quali sono i bisogni delle zone interne che per molto tempo sono rimasti abbandonate. Purtroppo le aree interne stanno morendo e vivono condizioni di gravissimo disagio e difficoltà, rispetto alle quali si impone una riflessione molto seria, ma soprattutto una scelta politica innovativa e forte. Che dire? Io sono rimasto essere fatto da quello che sta succedendo in questi giorni, la presa di posizione del Sindaco di Salerno sulla sua opposizione in merito a questi finanziamenti. Io ritengo che è una cosa molto grave. Io penso che il Salernitano, la Regione Campania, mai ha avuto in una sola seduta tanti progetti approvati, tanti milioni di euro. È una cosa che andrebbe festeggiata, non è una cosa che si ricorre al TAR. Noi sindaci, specialmente delle zone interne, la situazione come dicevo prima è drammatica, è avere questi finanziamenti, finanziamenti richiesti autonomamente da tutti i sindaci, cioè i sindaci hanno indicato la priorità, non solo, ma non vi è stato nessun limite sulla somma. E questo è stato fatto per via telematica, cioè senza andare a Napoli. Ma quante volte siamo andati a Napoli per il passato? Quanti progetti, quante relazioni, quante integrazioni? Per la prima volta nella storia della Regione Campania per via telematica. La provincia di Salernitano ha avuto 159 progetti approvati per oltre 300 milioni di euro. Io mi fa enormemente piacere che alcuni consiglieri del PD hanno condannato questa presa di posizione del sindaco De Luca. Mi riferisco all'onorevole Antonio Valiante e a tanti altri sindaci che giustamente hanno preso le distanze in merito a questa situazione. Non pensavo minimamente che un comune doveva ricorrere al TAR per avere dei fondi, per difendere i fondi che la Regione ci aveva dato. Noi abbiamo nominato prontamente il nostro avvocato, l'avvocato Marcello Feula, che ringrazio, ci è stato vicino in questa battaglia. Caro Presidente, Napoli l'ha fatto da padrone nel passato, sia nei finanziamenti ma anche nella sanità. Io ho visto che lei si è dato molto da fare per equilibrare l'erogazione dei fondi ai vari comuni, cioè tenendo conto anche delle zone interne. Alcuni soloni li chiamo io, gente che non conoscono le zone interne, non sanno che cosa è vivere un territorio come il nostro. Hanno parlato di frammentazione, polverizzazione dei finanziamenti, ma hanno detto tante di quelle eresie. Questi non capiscono niente. Cioè il mio comune, io ero con l'acqua sei ore al giorno nel centro abitato, sei ore nelle zone rurali a giorni alterne, sei ore. Questo è un progetto che noi aspettavamo da 15 anni. Ebbene con l'accelerazione della spesa, 6 milioni e 700, risaneremo la rete idrica di Roccalasco e diventeremo un paese più civile, perché non è giusto che l'acqua venga erogata ad ore. Molti cittadini si sono dovuti fornire di serbatoio dell'acqua con consume elettrici elevati e quando non c'è la corrente non arriva l'acqua nelle abitazioni. Io mi sarei aspettato una proposta alternativa a questi fondi, cioè 382 milioni destinati a Salerno. Ma mi sarei aspettato pure, non li mandiamo in tutti i comuni, ma per quale grande opere li vogliamo investire. E avrei voluto sapere di chi si è opposto se tra le grandi opere ce n'è qualcuno che è a sud di battipaglio. Io penso che sicuramente non ce n'è nessuno. Noi abbiamo la Fondovalle che da anni giace così ferma e bloccata. Presidente, noi abbiamo un territorio bellissimo. Il nostro è l'unico territorio della regione immune da qualsiasi tipo di inquinamento, sia ambientale che sociale. Noi non abbiamo bisogno di cassa integrazione, di carceri, di carabinieri, di eserciti, di bonifiche. Vogliamo quel minimo necessario per evitare lo spopolamento che è in atto. Noi, tutti i sindaci, siamo uniti. Noi a lei le chiedo, a nome di tutti, di far rientrare l'intero comprensore Alburni Calore nella programmazione delle aree interne 2014-2010. A tutti questi finanziamenti, per la prima volta, si sono aggiunti altri 486 progetti, tutti finanziati, per un importo. Questo è stato fatto con la delibera 496 del 22-11-2013. Altri 435 progetti che riguardano l'intera regione campagna. Questo è un avvenimento eccezionale. Con questa delibera, che ho citato prima, il Comune di Salerno ha ricevuto altri 12 milioni. Il Comune di Salerno ha partecipato a dei bandi per comuni superiori a 50.000 abitanti e ha ricevuto altri 48 milioni. In aggiunta a questo, il Comune di Salerno ha ricevuto altri finanziamenti per un totale complessivo, i 12, i 48 per 272 milioni. Ma io mi pongo la domanda. Ma Salerno rappresenta solo il 12% del territorio della nostra provincia. La città di Salerno è solo il 12%. Facciamole il raffronto. Allora, quanti soldi dovevano aspettare agli altri comuni? E io dico, non abbiamo avuto niente. Abbiamo avuto solo delle elemosine fino ad oggi. Un'altra fesseria. E i progetti vanno soppesati. Che significa che i progetti vanno soppesati? Ma solo i tecnici stranieri sanno fare i progetti a Salerno. E i nostri tecnici, e i tecnici che vivono nelle periferie, nei comuni, non sono ingegneri, non sono architetti come gli altri. Sono degli ignoranti, questi. Quindi una serie di fesserie, una serie di cose che non possiamo accettare. Noi che stiamo soffrendo. Oggi sono i sindaci che fanno fronte a tutte le richieste della popolazione. Siamo noi che stiamo al fronte. Mentre molti politici pensano solo ai fatti loro. Una volta eletto, abbandonano il territorio. E noi siamo rimasti abbandonati. Io penso che il Presidente della Metropolitana va a ripresa questo discorso. E sono convinto che lei farà di tutto. Però una cosa le chiedo. Noi già abbiamo subito molti tagli per quanto riguarda le linee su gomma. Non possiamo fare che si taglia nelle periferie su gomma per fare la Metropolitana a Salerno. Noi abbiamo due istituti superiori. Ebbene, ci sono sei alunni di Piaggine che vengono con passaggi. Perché la linea è stata tolta. Noi per istituire la linea Roccadaspide-Monteforte-Cilento paghiamo noi, Comune di Roccadaspide e Comune di Monteforte. E questa è una cosa ingiusta. E non possiamo pensare. Altrimenti, fra qualche anno, gli istituti superiori si chiuderanno. Perché gli alunni troveranno altre vie. Cioè saranno più facilmente collegati con Vallo o con Eboli. E noi perderemo le scuole. La gente come farà ad arrivare in ospedale? Come faranno quelle persone che ogni dieci giorno sono costretti ad andare in ospedale per le analisi? E vuol dire che diventerà una desertificazione nel nostro territorio. Presidente, noi abbiamo delle caratteristiche. Questo nostro territorio, come dicevo prima, oltre ad essere immune da qualsiasi tipo di guinamento, c'è una popolazione buona, una popolazione rispettosa delle leggi. Una popolazione che soffre di bravi lavoratori. Che dobbiamo fare di tutto per non fare abbandonare questo territorio. Noi vogliamo che i giovani che sono qui restano ancora con noi. Per fare questo abbiamo bisogno, come dicevo, prima di essere inseriti in questa programmazione delle zone interne. Negli ultimi tempi abbiamo un ritorno di stranieri che acquistano nei centri storici, che sono bellissimi. Noi a Rocca hanno comprato già, solo un americano ha comprato 800 metri quadrati per fare un albero. Hanno comprato tedeschi, fra pochi giorni arriveranno dei canadesi. Però come se non c'è il collegamento, se non c'è l'ospedale, se non c'è l'acqua? Ma dove vanno? Non vengono. Questi sono soldi che arrivano dall'estero e debbono rimanere nelle nostre zone. E non è che ci vogliono grossi investimenti, noi vogliamo quelle cose essenziali per la sopravvivenza. Abbiamo un territorio, dice il Presidente, noi siamo nel Parco del Cilento. Dalla sua istituzione, dal 91, subiamo solo vingoli. I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 394-91, che sancisce che i comuni, che nell'ambito del Parco, hanno la priorità nei finanziamenti statali e regionali. Non abbiamo avuto mai niente. Subiamo questi vingoli del Parco, subiamo il doppio parere della sovrintendenza e del Parco, che noi chiediamo solo al posto di inviarli in due uffici separate, Vallo della Lucani e Salerno. Ma una volta al mese questi due enti si possono unire a Salerno e a Vallo e rilasciano un parere univoco. A volte la sovrintendenza dice sì e il Parco dice no, per fare un balcone, non per fare qualche costruzione. E purtroppo queste sono le cose che noi vogliamo per accelerare, per venire incontro alle esigenze del territorio. Detto questo, voglio precisare una cosa. Chi vi parla ha sempre ragionato e agito politicamente nell'interesse superiore del territorio. Al di là delle appartenenze politiche e soprattutto partitiche, anche scontrandosi alcune volte, perché ritengo che il compito di un amministratore sia quello di tutelare il proprio territorio e non quello di allinearsi alle indicazioni di partito, che più delle volte seguono logiche che non goggigliano con gli interessi del territorio e che vanno in contrapposizione con gli interessi prioritari del territorio stesso. Può essere strano il mio ragionamento. Io mi sono trovato, ho militato nel PD, ebbene, caro Presidente, ero con Antonio Valiano. La parte del PD mi ha sempre guerreggiato. Chi ha proposto per la prima volta la chiusura dell'ospedale di Roccaraspi ed Agropoli, dobbiamo dire la verità, perché ci sono i fatti, è stato De Luca. Chi ha dei dubbi o chi ha la sua proposta, me la sono portata e agli atti. Questa è la proposta che lui fece, di fare due belli ospedali di urni. Ospedali di urni. Presidente, noi con l'ospedale del Selo non abbiamo niente a che vedere. Noi siamo a 45 chilometri da Battipaglia e 51 da Eboli. Siamo nell'entroterra. Se andiamo a vedere Scafati e Eboli sono 43 chilometri, ci sono 11 ospedali. Abbiamo un ospedale che funziona, funziona benissimo. Non lo dico io, basta verificare gli atti, i parametri, gli indicatori regionali che sono atti ufficiali. Abbiamo un ospedale che so che non è possibile oggi, perché è il decreto 49, ma io devo dire quello che penso e come sono i fatti. So che è necessaria una modifica del decreto 49. però non è di facile attuazione, di immediata attuazione. Però che si verifica? Non possiamo accettare che è un ospedale che ha delle potenzialità enorme, che vengono pazienti da lontano, per poi arrivare qua, quando c'è l'emergenza, dopodiché non c'è il posto, debbano essere trasferiti a Sarno o a Sapri. Ma come si fa a portare i nostri pazienti a Sapri? Ma come ci va un familiare a trovarli? È un controsenso, anche perché aumenta la spesa. Allora, Presidente, che dico? Bisogna riequilibrare senza aumentare i posti letto. Ci sono delle zone che hanno molto più posti letto del necessario. Io ho fatto una piccola presenza, io mi diletto da alcuni anni a riunire tutte le notizie di tutti i vari ospedali della Campania. Passa il tempo mettendo in sire. Ho una documentazione immensa su queste cose. Quindi, senza aumentare i posti letto, noi abbiamo, a sud di Salerno, la media posti letto per mille abitanti è quasi 4. La media stabilita dallo Stato è 3,4. La piana delle stelle siamo a 1,5. Il nostro territorio, Presidente, qua è l'unico territorio della Regione che non ha cliniche private. Quindi, in alcune zone, il cittadino può andare al pubblico, può scegliere tra il pubblico, tra più ospedali vicini, tra più cliniche private. Noi, senza l'ospedale, non esiste niente. Abbiamo una popolazione anziana, è il doppio della media regionale. Le distanze sono enormi. La situazione stradale non ne parlo, in quanto tutti sappiamo quali sono le situazioni. E siamo l'unico territorio che non siamo interessati, non siamo attraversati da autostrade e da superstrade. Ho letto Focus Sanità di pochi giorni fa. Vi invito a comprarlo. Per noi è un onore nella Valle del Calore vedere che tutti i reparti dell'ospedale di Rocca d'Aspire sono ai primi posti in questo giornale. Focus Sanità. Come dicevo, a Rocca si fanno più interventi chirurgici di quando se ne fanno in ospedale di primo e secondo livello. Presidente, poi quando mi darà l'occasione, le darò tutte queste notizie. abbiamo una cardiologia che Lars mi sfugge l'enda nazionale che valuta valuta le prestazioni. Agenas Agenas ha classificato l'ospedale di Rocca d'Aspire al terzo posto per la cura del cuore a livello regionale. Però siamo preceduti dalla Mediterranea e da Villa Betania. E' più di questo. Come si fa poi a chiudere un ospedale che eroga queste prestazioni? E' stata partita da Rocca d'Aspire la prima in Italia la sperimentazione Cardiopen cioè vietare l'uso limitare l'uso degli antiviammatori per i cardiopatici. La regione Lombardia la regione Piamonte un mese fa l'ha fatta proprio questa iniziativa di Rocca d'Aspire. Quindi dicevo di questa equa ripartizione penso che è un qualche cosa che si può fare in quanto non non va ad aggravare il bilancio regionale il bilancio che il Presidente Caldoro l'ha ricevuto disastrato. Se oggi non è possibile fare delle assunzioni è perché nel 1900 nel 2007 faccio confusione di anni fu sottoscritto un batto regione-stato dove finché non si arrivasse al pareggio non si arrivava al pareggio del bilancio è vietato assumere nuovi medici nuove purtroppo questa è la conseguenza dell'indebitamento che si è avuto allora so che il Presidente è riuscito già ad avere un piccolo sblocco di assunzioni io mi auguro che al più presto con il pareggio del bilancio che secondo notizie secondo a quanto ho letto è dichiarato dal Presidente Caldoro a breve ci sarà il pareggio del bilancio sulla sanità così saremo più tranquilli anche nelle nostre zone perché se il bilancio arriva a pareggio non dovremmo avere più problemi oggi chi ci doveva dare una mano nel passato non ce l'ha data nel 2008 fu approvata una strana legge la legge 16 dal Consiglio regionale e abbiamo fatto varie riunioni è stato approvato il decreto 49 abbiamo fatto svariate riunioni dappertutto io sempre mi sono adoperato dico facciamo una proposta di Consigliere regionale di Salerno centrodestra e centrosinistra una proposta di rimodulazione al Presidente Caldoro dico il Presidente sono convinto che l'approverà tutte le riunioni tutti i consiglieri regionali d'accordo però di concreto Presidente il giorno dopo non si è visto nessuno noi l'ospedale di Rocco non lo possiamo perdere non lo possiamo perdere non è che vogliamo una forzatura caro Presidente noi vogliamo solo il rispetto dei parametri se l'ospedale di Rocco non rispetta i parametri che la regione ha stabilito sono io a chiudere l'ospedale e vi porto la chiave ma se tantissimi ospedali che sono neanche secondari a Rocco hanno posti letto vuoti costantemente e debbono rimanere aperti noi questo non lo consentiremo e sono convinto che anche lei non lo consentirà si regolerà come ha fatto con i fondi e ci aiuterà in tutto questo ecco perché sostengo come credo lo sostengono i sindaci e gli amministratori qui presenti che è necessario un'attenzione diversa è un impegno preciso con scelte politiche chiare a difesa di queste aree qui non si tratta di difendere posizioni insostenibili o di rendere indifferibili perché non ve ne sono qui si tratta di avere il minimo indispensabile dicevo strade sanità economia ma non sono grosse cose quelle che chiediamo come si può pensare che un cittadino di un paese interno per fare una raccomandata alle poste debba mettersi in macchina e andare in un comune vicino fare una raccomandata ma quella raccomandata da 5 diventa 15 dicevo prima per andare a comprare le medicine si chiude le farmacie qua si chiude tutto ma noi non vogliamo tutte queste cose noi vogliamo il minimo perché questo è un popolo laborioso è un popolo che sa lavorare è un popolo che non è lamentoso però vogliamo che lei ci sia più vicino noi abbiamo pieno fiducia in lei ci deve stare più vicino perché noi non veniamo a chiedere cose impossibili cose illegali noi non ne vogliamo di queste cose Presidente Caldoro sono certo che su questi temi sarà attento e sensibile ma soprattutto voglio augurarmi che sarà sempre più concreto e immediato come ha fatto con il decreto sull'accelerazione della spesa su questa strada su cui sono certo si incaminerà come sempre con sempre maggiore convinzione avrà tutto il nostro sostegno l'augurio Presidente che ci possiamo vedere al più presto nella valle del calore per sempre cose nuove e ribadisco noi non chiediamo cose illegittime la luna nel pozzo chiediamo quel minimo per farci andare avanti io vi ringrazio e devo ringraziare l'amico Antonio Fasolino che ci è stato vicino in tutto in tutta questa vicenda grazie grazie sindaco grazie per il suo intervento il sindaco presidente è così diretto senza mezzi termini all'occorrenza l'ho detto lui stesso a partitico per cui lui lotta sempre a difesa del territorio quello che dice chi lo conosce lo sa bene corrisponde a verità non è soltanto una serie di frasi fatte del resto non è neanche facile sintetizzare in pochi minuti quella che è la situazione di questo territorio di questi territori lui insomma ci ha provato certo insomma di una sua risposta dicevo all'inizio questa sera ci sono diversi amministratori per ragioni di tempo naturalmente non interverranno tutti ma interverranno insomma interverrà qualcuno di loro e in questo caso diamo la parola al sindaco di Campagna che prego di avvicinarsi al podio per il suo intervento il sindaco Roberto Monaco che è reduce mi diceva poc'anzi da un viaggio a Puxelles dove è stato presentato un importante progetto rivolto ai suoi giovani ai giovani di Campagna poi ovviamente anticipiamo che il suo intervento verte proprio sull'argomento di questa sera cioè le misure per l'accelerazione della spesa la famosa delibera 148 del 2013 prego grazie buonasera a tutti benvenuto presidente unisco ai saluti del sindaco a oricchio anche i miei personali in qualità di sindaco di Campagna saluto i sindaci presenti al tavolo quelli presenti al palco e quelli in platea buonasera di nuovo io vorrei dare un taglio diverso che riprenderò in coda cinque minuti per dire che noi vogliamo anche rappresentare un sud che vuole sfidare sul piano delle proposte vuole sfidare chi ci vuole dire no attraverso le proposte però inizio a dire che cos'è la 148 in realtà quello che noi chiamiamo 148 è un trittico perché c'è la delibera 148 del maggio 2013 c'è la 378 del settembre 2013 e poi c'è la 40 del febbraio scorso ultimo passato bene la 148 parte da un presupposto la regione si dà un obiettivo come costruire o ricostruire o se volete integrare o in ogni caso modificare la competitività regionale come farlo e per immaginare questo si dà due tempi un tempo in prospettiva e un tempo nell'immediato il tempo della prospettiva passa attraverso la riprogrammazione delle risorse e la riprogrammazione delle risorse viene poggiata su due pilastri un pilastro è la qualità della spesa la qualità della spesa l'altro pilastro è interventi mirati capaci davvero di dare risposta in maniera strategica concentrazione delle risorse su interventi strategici questo è la dimensione in prospettiva ma la 148 garantisce anche una dimensione immediata ed è questo il senso dell'accelerazione della spesa utilizzando i fondi del POR del settennato che è finito nel 2013 ma che arriverà a rendicontazione del 2015 immagina in alcuni settori ritenuti chiave ecco qui strategico che cos'è la strategia la strategia è avere un'immagine di dove andare la finalità e le azioni da mettere insieme per raggiungerle quella finalità e quali sono queste finalità e questa strategia che la regione si è data si è data finalità nel campo dell'energia dell'ecoefficientamento nel campo dell'ambiente nel campo del tessuto urbano nel campo del tessuto produttivo delle aree interne dunque su questi temi la regione ha detto voglio accelerare la spesa ma non è finito perché poi con la 378 ha detto un attimo oltre a questi interventi su questi temi io voglio anche recuperare gli interventi che giacciono e giacciono su alcuni argomenti che sono l'accordo di programma quadro l'accordo di programma quadro voi sapete è un sistema per realizzare le intese istituzionali tra gli stati lo stato e le regioni ma anche gli interventi che giacciono in merito alle aree PIP e gli interventi che giacciono in merito alle aree ASI la 378 si basa sugli stessi presupposti che abbiamo detto prima di migliorare la competitività regionale della 148 però aggiunge una cosa aggiunge il protocollo di intesa che la regione ha stipulato con l'ANCI l'associazione nazionale dei comuni d'Italia per arrivare a dire che con 3 percentuali 40 40 e 20 e a partire da 0 a 10 mila da 10 mila a 30 mila e da 30 mila a 50 mila ci sono delle risorse e questo ha un significato perché ciò diventa complementare rispetto al discorso dei più Europa che invece riguardavano le città con più di 50 mila abitanti dunque aggiunge questo elemento e recupera a fianco all'avviso anche i progetti giacenti poi c'è anche la 40 la 40 aggiunge ancora due elementi premio i virtuosi premio coloro i quali rispetto al tempo che si sono dati consegnano prima ed un ulteriore elemento ancora lo sviluppo armonico dei territori questo è rivoluzionario perché in buona sostanza la regione si rende conto che la competitività regionale non può nascere dalla regione la competitività regionale è la somma delle competitività delle singole realtà locali e allora sviluppo armonico dei territori significa proprio questo creazione di un corpo che crea competitività insieme non guardando solo ad una parte del territorio allora è un trittico ma da questo noi dobbiamo prendere non soltanto l'aspettativa che ci finanziano un'opera certo che sì ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di tappare le strade ne abbiamo bisogno ma abbiamo anche bisogno di capire che ci sono momenti storici nei quali si può cambiare per evoluzione per attesa in questo momento storico noi dobbiamo cambiare subito per salti per necessità senza evoluzione non possiamo attendere i tempi dell'evoluzione e quindi dobbiamo migliorare sul campo della qualità della spesa cosa significa qualità della spesa se anche io fossi bravo di avere 5 milioni di euro per il finanziamento di un'opera ma come fare a non immaginare che quell'opera avrà una vita che mi costerà costi di gestione che l'anno prossimo sebbene io sia riuscito a prendere quest'anno quei 5 milioni mi ritroverò nel bilancio spesa corrente mi ritroverò le spese di gestione e allora ecco che la regione ci educa a dire non immaginare opere che poi ti affossano può addirittura essere dannoso prendere un finanziamento può addirittura essere antieconomico prendere un finanziamento ma se la dimensione del finanziamento è una dimensione che tu riesci ad immaginare nel tempo comprensiva dei costi di gestione di utilizzazione di funzionamento di vita di quell'opera allora la cosa funziona allora la regione dice io te la finanzio ecco perché pretende addirittura che si calcolano gli indici di redditività economica cioè quegli indici che ti restituiscono la bontà dell'investimento le entrate da un lato e le uscite dall'altro voglio concludere dicendo una cosa siamo stati in Europa siamo tornati martedì l'Europa viene vista come una cosa distante come una cosa inafferrabile ma come vuoi io ho il problema della buca e mi preoccupo dei fondi europei e sì eh quella buca si può coprire anche con dei fondi immateriali perché quella buca si copre con le spese correnti di bilancio ma se io riesco a diminuire quelle spese correnti significa che ho più agio di spendere i miei soldi sulle strade e allora l'immateriale prendendo i soldi per esempio che educano all'ambiente vedete sull'ambiente una parte dipende dai soldi che arrivano ma molta parte dipende dal grado di civiltà che noi siamo capaci di portare con noi e allora con il comune di Piaggine siamo andati in sede europea e in sede commissione europea sezione energia a dire noi riteniamo che ci sia un sud sostenibile un sud che non vuole abdicare che non vuole rinunciare ai temi della sostenibilità e allora abbiamo coniato un termine molto apprezzato in Europa che è sostenibile e ci siamo inventati con Cine Ambiente Torino il sostenibile film festival Europa per l'ambiente che cosa significa che noi riteniamo che attraverso l'educazione attraverso il veicolo del cinema che passa per i giovani perché all'interno di questo film festival c'è una sessione che riguarda questi aggeggi ormai i giovani non fanno nulla senza metterla qui sopra una festa di compleanno una gita qualunque cosa allora abbiamo fatto una sezione videoclip competition che si chiama iPhone Film Award come i giovani percepiscono attraverso un cortometraggio di 30 secondi l'ambiente come lo percepiscono quali sono le loro aspettative perché un giovane educato oggi è un adulto che penserà domani grazie grazie mi piace anche insomma questa questa conclusione che appunto fa riferimento ai giovani ai giovani di campagna ma che insomma potrebbero essere i giovani di qualsiasi comune qui rappresentato questa sera ma ritorniamo insomma alle criticità lo facciamo dando la parola al sindaco di Vallo di la Lucania Antonio Aloia dicevo torniamo un brevissimo saluto dice lui dicevo ritorniamo insomma a parlare delle criticità perché in questo caso insomma il sindaco vuole parlare sicuramente di sanità di viabilità insomma tutti quei problemi che attanagliano il territorio buonasera buonasera a tutti grazie a Gironi di aver organizzato questo incontro un saluto a tutti i colleghi sindaci un saluto particolare presidente un ringraziamento dal Cilento da tutta la comunità cilentana dalla mia città che mi onoro di rappresentare siamo qua a parlare di un argomento molto bello entusiasmante le dico la verità in questo momento così di pessimismo generale ci fa guardare con speranza un attimino al futuro e questo dell'accelerazione della spesa e non possiamo non ringraziarla per quanto lei ha fatto perché con coraggio bisogna dire con coraggio ha fatto una scelta molto precisa in maniera determinata per poter aiutare le piccole comunità come le nostre e solo Dio sa quando ne avevamo bisogno in questo momento apro una brevissima parentesi devo ringraziare chi ci ha aiutato chi ci ha accompagnato in questo percorso perché guardate non è un caso che la maggioranza dei progetti che sono stati presentati alla regione Campania vedono il Cilento questa zona qua dell'alto calore protagonista con dei progetti già cantierabili ma realmente cantierabili non in maniera non facendo bleff e non posso non ringraziare chi ci ha accompagnato in questa strada che è l'avvocato Antonio Fassolini e l'avvocato Marcello Felo che ci hanno accompagnato e questo la dice lunga sulle professionalità e sulle presenze adeguate per governare questo territorio che ci sono nel nostro Cilento una preoccupazione però la devo lasciare su quanto riguarda l'accelerazione della spesa speriamo che i decreti vengano fatti immediatamente e poi che ci sia realmente una una conseguenzialità nell'elargire il dovuto ai vari comuni quando vengono presentati i sal perché sono questo renderebbe realmente critico tutto il processo non solo metterebbe invece di essere una fortuna sarebbe una jattura perché metterebbe in seria crisi tutti i comuni perché non abbiamo la disponibilità economica per anticipare e metterebbe in crisi le ditte sperando che siano innanzitutto del posto e che invece di avere una fortuna appunto in questo momento economico così diastroso potrebbero realmente avere una situazione ancora più drammatica della propria impresa quindi la lascio alla sua attenzione questo problema in questo mio brevissimo saluto perché realmente sono pochi minuti che rubo a voi non posso non sollecitarla rispetto ad alcune criticità senza rischiare di far diventare il mio intervento una serie di elenchi di lamenti assolutamente ma vorrei lasciare questi punti alla sua sensibilità finché le scriva nella sua agenda che sappiamo essere molto pragmatica molto concreta perché abbiamo bisogno di risposte reali e immediate primo punto c'è un problema della governanza di questo territorio tra pochi giorni spero finalmente tra pochi giorni ci sarà la nomina del nuovo presidente del parco mi auguro che in questa nomina non la voglio minimamente influenzare lungi da me ci possa essere una risposta che parta da questo territorio e ci sono le personalità adeguate che possono partire da questo territorio non abbiamo bisogno più di soloni che vengono dall'esterno e pensano di colonizzare questo territorio e poi di fatto non lo sanno amministrare con il rispetto di tutti i presidenti che ci sono succeduti del parco abbiamo bisogno di un presidente che venga da questo territorio e questo territorio può rispondere può rispondere in maniera adeguata a questa esigenza tra l'altro un presidente del territorio conosce bene il territorio e può dare le risposte che le comunità si attendono per superare quell'aspetto semplicemente e esclusivamente vincolistico del parco che purtroppo ahimè come diceva Girolamo è evidente nei nostri cittadini secondo punto questo territorio soffre in maniera omogenea a sud della provincia di Salerno un gap infrastrutturale spaventoso che lo lascia indietro rispetto alle realtà metropolitane mi fermerei solo su uno quello delle vie di comunicazione oramai non se ne può più sì è vero la situazione è diventata ancora più emergenziale dopo i noti effetti del discesso idrogeologico che ha colpito in maniera drammatica il cilento l'alto calore guardate ci sono borghi isolati isolati qua c'è proprio un'emergenza addirittura che diventa anche un'emergenza sanitaria molto spesso i città non riescono a raggiungere in maniera adeguata gli ospedali di riferimento lo dico anche da medico lavorando a Vallo della Lucane ma a volte c'è questa difficoltà reale so che la sua giunta lei nella sua figura nella figura dell'assessore Cosenza ma anche grazie all'intervento della provincia dell'assessore Pierro c'è stata una pronta disponibilità però una piccola tranche perché pioveranno su questo territorio circa 27 milioni di euro speriamo presto perché i decreti ancora purtroppo non sono stati fatti per poter risolvere alcune situazioni però purtroppo la sfortuna ci rincorre sulla Cilentana che è quest'asse che entra all'interno del Cilento con questi 27 milioni una parte di questi 27 milioni si riusciva a risolvere il problema della Francia subito dopo il giorno stesso della firma del decreto c'è stato un secondo problema lo slittamento dei piloni per cui la situazione è diventata realmente drammatica oltre da un punto di vista diciamo strettamente di protezione civile e da un punto di vista sanitario si pone anche il problema di un'estate che avvicina e il turismo rappresenta una piccola voglio dire risorsa economica ancora per i nostri territori però dicevo a prescindere dall'emergenza che c'è stata di sesso idrogeologico c'è un problema serio delle vie di comunicazione noi siamo molto lontani dall'autostrada e dal famoso aeroporto di Ponte Cagnamano che tanto se ne parla ma di fatto questo territorio non ne può usufruire abbiamo urgente bisogno Presidente di un collegamento veloce tra la cilentana e l'autostrada il collegamento battibaglia agropoli e il progetto c'è come abbiamo bisogno urgentemente che si metta mano finalmente alla strada del parco e quindi alla fondo valle calore che possa collegare tutte queste realtà io le chiedo le chiedo la gentilezza di poterli inserire nei finanziamenti europei 2014 e 2020 le risorse non sono ingenti cerchiamo di dare una svolta finalmente a questo territorio ma il problema delle vie di comunicazione non si ferma solo alla strada alla avicolazione sub gomma c'è un problema serio sulle strade ferrate guardate è paradossale direi addirittura realmente scandaloso che oggi in Italia non ci si accorga di una cosa che l'alta velocità si ferma a Salerno dopodiché il sud non solo noi ma io dico il sud anche Reggio Calabria il problema non si pone proprio e non ci sono fonti di finanziamento allora io le chiedo un intervento a livello del ministero perché l'alta velocità possa essere un bene che possiamo soffrirne tutti quanti noi tutti quanti noi e questo è un impegno che se lo facciamo insieme tutti quanti insieme in maniera coesa insieme a lei le ripeto è nota la sua concretezza al di là del politichese che molto spesso si parla in politica probabilmente una soluzione si potrà incominciare a intravedere perché i fondi ci sono per poterlo fare è inutile dirvi che c'è addirittura una situazione pericolosissima perché il tratto a Scea-Bisciotta corre sotto a una frana in la località la località famosa di Bisciotta per cui già è pericolosissima un'ultima e due considerazione il problema della metanizzazione lei è stata con noi con molti dei sindaci di questo territorio è stata al ministero lei si ricorda lei ha preso questa iniziativa e la ringrazio per questo c'è stato un impegno dello Stato spero che ci sia quell'impegno anzi non ne ho minimamente dubbi ma che accada presto l'impegno da parte della regione per poter finalmente rendere pure più civile a questo territorio perché siamo rimasti oramai l'unica realtà senza il metano e questa è una situazione molto ma molto importante per questi territori perché cambia la storia immediatamente di questo territorio è un'ultimissima preghiera se vogliamo realmente che questo territorio diventi come dice il mio amico Edmondo Cirielli la California della regione Campania della provincia di Salerno dobbiamo mettere mano a un'azione molto coraggiosa che possa trarre investimenti su questo territorio noi le chiediamo con gran forza che questo territorio qui visto che diamo del bene essendo zona parco che abbia il favore di avere una fiscalità di vantaggio perché è l'unico mezzo per poter attrarre investimenti su questo territorio è importantissimo ce l'hanno avute altre realtà tipo Mondragone Torre Annunziata penso che siamo legittimate anche noi a poter avere questa scelta è una scelta coraggiosa ma gliela chiediamo con gran forza perché questo cambierebbe la storia finalmente di queste popolazioni grazie grazie a sindaco naturalmente premetto che io non ho mai ritenuto che un'istituzione sebbene importante quale possa essere la regione possa risolvere come per magia tutti i problemi di un territorio special considerando che questo territorio davvero ne ha tanti ma presidente nel darle la parola le chiedo cosa risponde a questo territorio e a questi sindaci allora intanto grazie saluto a tutti saluto a tutti i cittadini che sono qua presenti caro sindaco saluto a te ma per tutti i sindaci che sono qua e ho avuto modo di dire alla stampa appena sono arrivato che ritengo che la tenuta istituzionale di questo paese in questa crisi così violenta che ha colpito l'Italia ha colpito in parte l'Europa ma diciamo ha colpito soprattutto i paesi del Mediterraneo e l'Italia in testa insieme alla Spagna e la Grecia che ha così colpito i nostri cittadini perché dentro una nazione ci sono persone che vivono e chiedono servizi efficienti chiedono risposte allo Stato e al sistema pubblico io sono convinto e ringrazio te e tutti gli altri che il vero baluardo del nostro paese sono state le nostre amministrazioni locali e i nostri sindaci aggiungo i sindaci dei comuni piccoli e medi perché non sempre altri sindaci di grandi città hanno fatto straordinarie performance quindi possiamo dire che insomma non sempre si sono contraddistinti dalla cosiddetta buona politica perché loro sono più potenti dei ministri come è noto essendo gran sindaci di grandi città si sentono infallibili per alcuni aspetti anche pieni di problemi ma devo dire la verità onestamente i problemi ce li hanno soprattutto i sindaci delle grandi aree metropolitane hanno problemi molto seri ci mancherebbe però ecco credo che il nostro tessuto il tessuto è fatto dai tanti sindaci non dai pochi sindaci delle città metropolitane che invece tengono questo tessuto e riescono a mantenere insieme una filiera istituzionale essenziale perché poi il collegamento diretto col cittadino che chiaramente quando esci qui tu incroci ogni mattina incrociato ogni mattina per la strada e quindi sapete che cosa vi chiede ecco perché devo dire vi ho ascoltato all'inizio con grande rispetto in tanti incontri più occasionali devo dire che organizzati abbiamo avuto negli anni scorsi in qualche occasione pubblica ho incontrato molti di voi e devo dire gli argomenti erano sempre argomenti serissimi cioè io non ho mai avuto da voi strumentalizzazione di fatti considerazioni di carattere metafisico oppure fuori dal contesto dei problemi concreti che cittadini ho sempre avuto da voi una risposta una domanda a tante risposte che il sistema stato in particolare le istituzioni che hanno un compito di coordinamento e di programmazione dovevano avere per dire come insieme vogliamo affrontare questa crisi che è una crisi durissima ma non sto qui a dirvi quello che sono i problemi che voi dovete affrontare ogni giorno perché li conoscete chiaramente meglio meglio di me e ho ascoltato con grande attenzione tutte le riflessioni che venivano fatte da voi in particolare su due temi centrali poi ce ne sono tanti altri io scusate mi raccolgo in questo saluto complessivo a tutti i cittadini ai sindaci ma a tanti dirigenti politici amministratori o non solo di comuni di provincia che sono qua permettetemi di salutare Gennaro e Giovanni che sono qua che sono i consigli regionali che con me vivono la situazione di vita quotidiana dell'assetto regionale ma di quindi salutare tutti spero di non aver mancato nessun saluto ufficiale e formale ma dico quando ho ascoltato le vostre richieste su due temi insomma sentivo l'esigenza di lavorare per trovare una risposta almeno come regione una era l'effetto che aveva il patto di stabilità sostanzialmente sulla capacità di spesa dei comuni e degli enti locali questo è un problema complessivo che abbiamo anche noi a livello regionale io faccio un esempio ma questo si potrebbe riprendere per il paese anche a livello locale la capacità di spesa della regione si è abbassata diciamo che è stata limitata dal patto di stabilità in particolare sul patto euro compatibile pensate un po' nel 2009 era circa 3 miliardi e 3 che era quello che la regione erogava in termini di euro per che cosa escludete la sanità che è fuori patto per tutto il resto lavori pubblici ambiente trasporti finanziamento alle imprese comuni ecc oggi siamo pensate che cosa è arrivato nel 2013 14 in presentazione l'euro compatibile a 2,250 quindi in soli 4 anni abbiamo dovuto togliere dal bilancio regionale erogazione per un miliardo di euro insomma noi teniamo diciamo la verità un bilancio molto rigido dove sono tutte obbligazioni sono i treni che devono camminare il TPL che va pagato l'ambiente con la depurazione che è tutto in testa alla regione che va pagato le utenze i dipendenti tutta la struttura che tu hai difficoltà però questo ti è stato chiesto dallo Stato per comprimere la spesa e fare la razionalizzazione nello stesso tempo taglio razionalizzazione e rilancio perché se non metti le tre cose insieme non funziona ma pensate un po' in tre anni abbassare di un miliardo il tetto di pagamenti sapete qual è la sofferenza dov'è che è stato tolto il grosso è stato tolto in trasferimenti così come venivano minori trasferimenti dallo Stato verso la regione la regione inevitabilmente ha dovuto contrarre i trasferimenti alle province e ai comuni il grosso è lì diciamo la verità poi ci sono certo la regione ora 1500 dipendenti meno è andato in equilibrio economico finanziario perché poi aggiungo a tutto questo la vecchia regione non solo otteneva 3,350 ma a parte contraeva un debito ulteriore di 600 milioni quindi praticamente viaggiava a 4 miliardi a 4 miliardi noi siamo dovuti andare a 2,250 e abbiamo dovuto togliere i 600 perché dal 2009 con gli impegni europei non potevamo più indebitarci perché avevamo superato il livello di indebitamento della regione quindi insomma guardate quanti soldi meno avevamo noi e quindi quanti soldi meno potevamo trasferire a valle quindi c'è poco da fare ormai noi viviamo quasi tutto di trasferimenti le imposte in più a noi ce le fanno pagare per il debito sanitario quindi non è che tu potevi mettere un'imposizione locale regionale per poi tentare di fare risorse quelle risorse liquidità che trasferiva i comuni perché erano bloccate come è stato ricordato per il piano sanitario che nel 2008 quindi 2009 al regime nei 5 anni ci vincolava quindi fino al 2014 alle situazioni che conoscete blocco addizionale è ricostretto dalle leggi nazionali non è che vivi autonomia però ascoltando con attenzione tutte le vostre richieste voi mi avete detto ma ci sarebbe una strada anche perché quando parlo con voi parlo con devo dire con competenze straordinarie quindi avete tutte le idee proposte che possono venire in una filiera istituzionale che deve sempre dialogare avete fatto due proposte devo dire tre una era come risolviamo il problema del patto di stabilità e noi ci siamo inventato abbiamo costruito con le altre regioni e la cessione di patto verticale di cui avete beneficiato molti comuni cioè abbiamo detto ma se c'è un problema di spesa della regione trasferiamo il pezzo di spesa non possibile alla regione per chiaramente non vincolarci a una strettezza di patto dando ai comuni spazi di patto e abbiamo fatto il cosiddetto patto verticale non al trasferimento di risorse che vi ha dato un po' di ossigeno in termini di spesa poi abbiamo pensato alla seconda cosa ma se siamo bloccati in termini di investimenti parliamo di investimenti cosa facciamo? allora abbiamo pensato di dire ma vogliamo lavorare sull'unica spesa possibile fuori patto l'unica fuori patto che sono i fondi europei per la parte che va fuori patto perché poi purtroppo sapete c'è il cofinanziamento che entra nei limiti del patto di stabilità e questo ci crea molti problemi ma noi come sapete l'abbiamo messo nel piano di azione e coesione abbiamo voluto fare un altro programma parallelo che non ci vincola con la tempistica europea del 2015 però abbiamo detto ma vogliamo fare e allora ci siamo messi a lavorare devo dire sul vostro consiglio ci siamo visti di più occasioni abbiamo detto beh che non lavoriamo sulla programmazione vado in Europa prima dal governo e poi in Europa e mi dicono beh la programmazione ormai è rigida quello che è stato stabilito è stato stabilito non si riesce a fare quello che tu ritieni cioè di dare un pezzo del programma verso gli enti locali per sostituire quello che gli enti locali non possono fare più investimenti essenziali avete fatto riferimento a opere di interesse territoriale che sono indifferibili non possiamo più pensare di non fare per le ragioni di urgenza e allora siamo stati sei mesi sette mesi io andavo a dire in Europa guardate ma se ci avete permesso la riprogrammazione sugli ammortizzatori sociali cioè noi abbiamo riprogrammato i fondi europei sulle misure anticicliche che significa la crisi quindi anche la cassa integrazione in deroga insomma se abbiamo riprogrammato il fondo sociale europeo una parte del FERS su queste misure perché c'è questa rigidità non riprogrammare su misure anticicliche perché le misure sulle opere pubbliche dei comuni sono misure anticicliche perché fanno riattivare l'economia insomma riattivano l'economia perché si fanno i lavori si fanno le opere importanti devo dire siamo stati sei mesi a discutere e poi in particolare con Fabrizio Barca siamo riusciti quindi anche qui non ne ne faccio una questione di colore politico come vedete abbiamo iniziato confitto ma poi abbiamo realmente realizzato le questioni con Fabrizio Barca siamo andati in Europa a dire ce la date questa riprogrammazione e allora siamo riusciti primi noi la Campania perché le altre regioni sono venute dopo di noi la Campania che ha avuto è con la delibera di prima dell'estate è stata la prima delibera nazionale sull'argomento quella di dire ci date la possibilità Europa di riprogrammare una cifra che va a cavallo per quale motivo ci dobbiamo scandalizzare che una programmazione europea non debba essere strettamente collegata a quella che viene dopo se no facciamo come abbiamo fatto negli anni scorsi facendo un grave errore che io sono subentrato con il presidente della regione nel 2010 e mi sono trovato dopo tre anni quindi a metà programma tre anni con il 3,6% della certificazione della spesa cioè dovevamo stare almeno al 25-30 no? se a metà programma c'è il 3,7% come fai negli altri tre anni poi a garantire il 96% di spesa? beh insomma è evidente che c'era qualcosa che non andava quindi convincere l'Europa a dire questa programmazione degli enti locali rendiamola coerente cioè con quelle aree tematiche che sono coerente con la programmazione 14-20 con cifre in alcuni casi sopra i 5 milioni siamo obbligati ad andare in coerenza ma tentiamo che siano tutte coerenti e creiamo una fase ponte sia sui grandi progetti ma a maggior ragione sul programma di accelerazione della spesa quindi su un programma parallelo mettiamo tante opere pubbliche che i comuni possono fare in ripetizione questa è solo la prima fase ma noi se vediamo che le cose vanno bene continuiamo con costruire questo meccanismo di protagonismo dei sindaci che potranno avvalersi di altre misure per continuare questa loro opera sul territorio che qualifica la spesa se è ben chiaro e poi ci arriverò un attimo perché siamo arrivati a selezionare il modello di intervento è stato ricordato anche da voi negli ultimi interventi quindi aggiungo solo poche cose alla cosiddetta virtuosità della spesa che è stato un problema nostro di carattere generale quindi quando l'Europa ci ha consentito il cosiddetto programma parallelo quindi noi andiamo in accelerazione della spesa perché? perché mettiamo più programmi uno vicino all'altro quindi aumentiamo la capacità di spesa per arrivare ai target europei di chiusura programma 2015 se no moci arrivi se non metti insieme più spesa quindi un overbooking si chiama tecnicamente un impegni che non sono il 100% del programma ma solo il 130 140 150% per stare in accelerazione però di stare poi strettamente collegato quindi non ci sarà timore c'è la copertura economica rispondiamo a quelli che un po' ignoranti pensano di conoscere i fondi meglio degli altri e parlano che non c'è un problema di copertura se uno va a vedere in maniera aritmetica e ragioneristica su quanto ci abbiamo sulla programmazione 713 perché non ha senso quella perché ci devi mettere anche il pezzo della 1420 in coerenza noi abbiamo aperto un canale di rapporto che rende protagonisti comuni perché abbiamo ritenuto giusto raccogliere l'appello che ci avevate fatto perché ce l'avete fatto voi questo appello e noi abbiamo voluto rispondere al vostro richiamo al vostro richiamo di incapacità in capienza rispetto ai bilanci comunali di opere pubbliche essenziali che non c'era altro strumento di avere queste risorse perché il governo e lo Stato non li passa più né vi permette e ci permette indebitamento se non per il debito commerciale ma non per nuove opere e alla fine quali sono gli strumenti il vecchio FAS l'FSC ma questa sarà la quota di cofinanziamento dei prossimi fondi a noi ci vengono meno due canali di finanziamento il cofinanziamento che era generalmente in più rispetto al FAS e all'FSC e ci vengono meno le leggi speciali tante che abbiamo avuto nel mezzogiorno no? ce ne ricordiamo tante e quindi a noi quando ti mancano due canali alla fine le risorse saranno inevitabilmente meno e quindi se sono meno quelle che prima servivano per i comuni non ci sono più dobbiamo andare sulla parte della programmazione europea è ben chiaro che non ci abbiamo altro strumento quindi ho raccolto questo vostro appello perché ho pensato è essenziale dare questa risposta nel momento in cui lo Stato per esempio sul dissesto idrogeologico perché si dovrebbe occupare lo Stato del dissesto idrogeologico sia ben chiaro non la programmazione regionale o anche altre cose che si dovrebbero occupare lo Stato ma non ci ha più i fondi che noi ce li giochiamo e ce li facciamo in un'intesa istituzionale con i fondi europei e questo l'abbiamo fatto con l'intesa con voi cioè non è quella roba 40-40-20 questo strumento sia nato a caso ma io non capisco io devo dire lì non capisco dei vostri colleghi che parlano a sproposito della vicenda come se fosse nata questa intesa non so in quale palazzo fuori dal contesto territoriale ed è stato ben ricordato che i comuni sopra i 50.000 abitanti hanno avuto fiorfiore di risorse ma di che cosa si lamentano o meglio mi permetto di dire spendessero bene le risorse che hanno avuto perché vedo che hanno qualche difficoltà a spendere hanno avuto cifre enormi anche un po' sproporzionate rispetto a quindi noi dovremo e lo diremo a loro con grande lealtà che noi dobbiamo continuare a riequilibrare i piccoli e medi comuni quindi anche le operazioni che faremo successivamente saranno rivolte soprattutto a questa struttura enorme gigantesca che poi alla fine voi siete rappresentativi della maggioranza dei cittadini perché non è che le cose si fanno perché uno vuole fare la cortesia a qualcuno le logiche europee ci impongono anche di avere un equilibrio territoriale in termini di sviluppo che risponda ai problemi non solo di ampiezza territoriale e voi rappresentate in questo una percentuale estesissima del territorio regionale che è pure un costo no? che è pure un costo ma rappresentate anche la maggioranza dei cittadini della regione quindi se questo è non c'è dubbio che noi dobbiamo continuare su questa linea in un equilibrio serio l'abbiamo fatto con l'Anci l'accordo quindi l'abbiamo stabilito a livello di intesa dei comuni non dimenticando nessuno perché i comuni sopra i 50.000 abitanti e le città metropolitane hanno risorse che gli spettano perché evidente che se una città ha un porto non è che se si finanzia il porto si finanzia solo quella città si finanzia un'attività portuale che di interesse è addirittura nazionale se si deve fare una metropolitana si fanno solo nelle grandi città e quindi evidente che hanno un costo molto alto ma uno non pensa che non le debba fare solo perché sono a vantaggio di Napoli o piuttosto di Salerno no si fanno perché è giusto che queste grandi opere abbiano il loro preso però anche sui grandi progetti voglio ricordare che i piccoli comuni piccoli e medi possono beneficiare della banda larga che è un grande progetto che spesso sottovalutiamo noi siamo la prima regione italiana in termini di risorse destinate alla banda larga oltre alla larga e alla copertura del digital divide quindi noi avremo la copertura al 99% a chiusura programma alcune opere viarie comunque interessano anche queste aree il ripascimento interessa molti comuni costieri e tutto il sistema della depurazione che non è che solo sarno e quindi vuol dire che riguarda solo quel comune riguarda chiaramente una serie di innesti di collettori e collettamenti che chiaramente interessano l'intera collettività in termini di tutela ambientale però venendo all'accelerazione della spesa parlo di questa perché è molto più complessa l'operazione perché i completamenti che sono non sono solo quello che si dice i completamenti sono una cosa in più che porteremo l'area PIP non riguardano pure i comuni le aree ASI non riguardano pure i comuni quindi come vedete è un effetto moltiplicatore già abbiamo messo in campo un effetto moltiplicatore perché molti comuni alcuni interventi c'erano l'area PIP quindi non è che solo quell'intervento che hanno avuto col bando poi c'è l'efficientamento energetico che è un ulteriore bando quindi noi mettiamo insieme opere che riguardano settori strategici e anche sulla cosiddetta parcializzazione della spesa io sono d'accordo che quando tu hai detto ma quale discorso accademico possiamo definirlo così che vogliamo nobilitare i nostri interlocutori no? ma già sono tutti scienziati che il tema è che la micro frammentazione ma intanto è previsto che il programma abbia i comuni come riferimento che sono soggetti attuatori ma quando noi abbiamo voluto fare uno sforzo proprio per in una dinamica nella quale abbiamo messo alcuni sistemi che sono la difesa suolo l'energia e quindi l'efficientamento energetico alcune opere di sviluppo urbano in particolare sui beni pubblici l'ambiente e quindi la tutela in particolare sulle infrazioni comunitarie siamo intervistati o il distesso idrogeologico poi se un comune interviene per opere che sembrano piccole ma guardiamo quelle del collettamento cinque comuni faranno la loro opera ma di fatto è un unico intervento perché si va a collegare il collettamento e il sistema fognario a un sistema che è globale non è un sistema che non è che del singolo comune ma si innestano una serie di azioni che hanno un impatto di qualità dell'intervento che non è solo comunale ma finisce per essere comprensoriale non tutti sia ben chiaro ma una parte di questi rientrano in questa iniziativa aggiungo che chiaramente questo ha anche stabilito una linea gerarchica tra i sindaci e che è un bel sistema competitivo permettetemi di dire perché è bene che ognuno che è più bravo riesca a rire allora oggi siamo partiti un po' su tutti per dare un segnale di equilibrio e perché mancava mancava però non c'è dubbio che già i primi segnali li abbiamo i primi segnali di capacità delle amministrazioni locali lo abbiamo da questo bando dalla qualità dei progetti dalla cantierabilità e dalla valutazione proprio del merito dei progetti e devo dire lo dico così che la provincia di Salerno ha dimostrato i sindaci della provincia di Salerno di essere una classe dirigente che ha grandi qualità perché complessivamente devo dire chi si è meglio comportato sono soprattutto Salerno Avellino e Benevento con una certa difficoltà a passare al passo di Napoli e di Caserta quindi come vedete anche lì molte volte il sistema metropolitano i problemi del sistema metropolitano crea quella instabilità politica e quella difficoltà a ragionare solo esclusivamente nell'interesse dei propri cittadini spesso si è distratti ad altri e quindi non si ha una capacità di programmare come si dovrebbe voglio concludere anche se poi risponderò per temi che non riguardano l'accelerazione della spesa che sono stati posti dal dibattito e quindi non mi sottrarrò ad alcune considerazioni di carattere generale su altri temi a partire dalla sanità ultima questione che cosa fare un'altra buona notizia perché se no siamo venuti ho portato una buona notizia per tutti vorrei darvene un'altra o meglio altri due stiamo studiando con il governo cosa nota sia con quello di prima con quello di oggi un programma speciale straordinario sulle scuole quindi sapete molti di voi hanno mandato al governo le loro priorità le stesse priorità generalmente sono indicate dai provveditorati con le emergenze che nascono all'interno del sistema scuola stiamo studiando con l'Europa e con il governo di fare un'altra misura di accelerazione della spesa chiamiamola così per quanto riguarda il completamento dell'operazione scuola grande progetto scuola che la Campania ha fatto per in particolare i laboratori scolastici per la sicurezza nelle scuole per la parte diciamo più leggera della sicurezza e sull'efficientamento energetico quindi con progetti che vanno sui 370 mila euro i primi e massimo 750 mila euro il secondo che sono fatti dalla regione Campania tramite il ministero dell'istruzione andremo ora con il governo a fare la parte più statica delle scuole cioè la parte di interventi più importanti e significativi di qualche milione di euro dipende chiaramente dalla struttura scolastica dall'edificio scolastico questo è un programma che stiamo studiando con il governo quindi ci aspettiamo di poterlo addirittura metterlo fuori patto chiedere all'Europa un fuori patto quindi non utilizzare solo i fondi europei ma anche i fondi di cofinanziamento poi una cosa di cui non posso sono i giornalisti qua quindi non vi dico che cosa vi lascio stare un po' in perché sto studiando rispetto a un altro tema che voi mi avete posto come risolverlo come risolverlo direttamente sui comuni e devo avere ancora tutte le autorizzazioni ne sto discutendo in sede europea ne sto discutendo in sede governativa ma spero di poter da qua a qualche settimana mi auguro in una quindicina di giorni di poter fare un incontro con l'ANCE e con voi per capire che esigenze ci sono su questo segmento che voi vi avete posto ma lo lascio per ora non per ragioni di riservatezza non è nulla riservato ma anche perché è giusto che i passaggi siano garantiti quindi chi ne discuta prima un attimo col governo per vedere se ci permettono di utilizzare uno strumento è una manovra per venire incontro ai comuni per altri tipi di sofferenze che voi avete oltre il sistema scuola ci sono come è noto avete in particolare un'altra sofferenza alla quale speriamo di poter rispondere con efficacia e quindi quella mi auguro che sarà un'altra buona notizia attesa in particolare dai comuni piccoli e medi perché è un problema che avete soprattutto i comuni che non hanno bilanci in grado di sopportare queste questioni brevemente sugli altri temi con l'impegno chiaramente che parlo in particolare sulle grandi reti spesso si richiama alla regione la titolarità e la responsabilità sulle grandi reti lì non abbiamo nessuna responsabilità cioè quando si parla di alta velocità di alta capacità di metanizzazione o di iniziative addirittura sulla fiscalità come sapete queste non competono alla regione noi possiamo venire in supporto allo Stato come abbiamo fatto con l'alta capacità firmando un contratto istituzionale di sviluppo e impegnando una parte delle risorse perché non abbiamo altri strumenti perché sono strumenti di carattere nazionale però sono d'accordo e saremo vigili su questo chiedo anche il vostro sostegno per andare a chiedere come abbiamo fatto per l'alta capacità e come abbiamo fatto per la metanizzazione di strutturare tavoli col governo dove il governo deve prendere degli impegni sapete che nel finanziario c'è passata la norma di copertura sulla metanizzazione non abbiamo fatto una grande battaglia insieme perché era assurdo che questo stralcio della metanizzazione della copertura sulla metanizzazione fosse a carico del sistema degli enti locali delle regioni quando aveva avuto sempre coperture nazionali quindi abbiamo trovato come sapete uno strumento 50 e 50 un po' come abbiamo fatto con l'altra capacità cioè una parte la mette il governo e noi abbiamo dato già la disponibilità per iscritto ci aspettiamo di firmare l'accordo poi vedrei se era un CIS o se era una PQ di firmare un atto formale nella quale il governo ci deve chiamare a sederci al tavolo e di confermare gli impegni che abbiamo preso in quell'incontro tra l'altro quegli impegni come sapete sono per una parte di copertura nazionale e per una parte sarà l'FSC di competenza regionale che chiaramente andrà in cofinanziamento delle risorse nazionali così come con tutte le grandi reti siamo disponibili a discutere la programmazione che faremo insieme in partenariato allargato con i comuni per l'FSC che sarebbe il vecchio FAS 14-20 anche se ho qualche dubbio mi permette di dire qualche dubbio sull'efficace capacità di tiraggio di cassa dell'FSC perché se vedo le finanziarie come cioè le previsioni di spese di copertura perché oggi bisogna fare le programmazioni triennale e quinquennali primo anno 100 milioni secondo anno 300 milioni quarto anno 500 milioni l'ultimo anno 32 miliardi sai come fare il costato quindi lascia la cassa la prevede nell'ultimo anno quello fuori programmazione e quindi noi avremo un problema su FSC realmente quando sarà in disponibilità di cassa e quando parliamo di scuola non è che puoi dire pagherò devi pagare se fai un istituto scolastico non è che puoi prevedere di pagarlo in etero allo Stato la programmazione purtroppo è una programmazione molto lunga in termini di cassa e quindi dobbiamo sperare di poter rivedere la riprogrammazione dell'FSC pur dando oggi già la disponibilità delle regioni campane alle cose che voi avete detto come priorità essenziali ultimissima questione poi solo sulla fiscalità ho una battuta sulla sanità allora sulla sanità come sapete noi siamo stati non solo dal decreto 49 che il decreto 49 è un pezzo di quello che c'è stato consegnato sulla quale non abbiamo grandi spazi di manovra perché non siamo autonomi quindi per fare un qualsiasi cambio noi dobbiamo avere la la vidimazione l'autorizzazione del governo e non solo di due ministeri spesso i due ministeri non vanno neanche d'accordo che sono il ministero della salute e il ministero dell'economia quindi al di là della nostra volontà noi possiamo descrivere le situazioni migliori possiamo far capire le ragioni di una programmazione sanitaria che non può essere fatta a tavolino senza capire di cosa stiamo parlando e in quell'ambito possiamo essere un pezzo del percorso dove noi presentiamo programmi di aggiornamento anche del 49 così come abbiamo fatto in alcuni casi e io che cosa ho dovuto fare in particolare ultimamente dire ma scusate noi parliamo per amor del cielo sarà a regime una grande scelta ma dell'ospedale del Sele ma non abbiamo le risorse e quindi di che cosa parliamo quando sarà se abbiamo le risorse a terra allora parliamo dell'ospedale del Sele premesso cioè le risorse lo devi realizzare non è che puoi parlare domani mattina nell'ospedale del Sele nel frattempo che fai riduci il fabbisogno sanitario perché se riduci l'offerta vi devi ridurre il fabbisogno vi devi dire che quel fabbisogno non c'è più qualcuno deve avere il coraggio di scriverlo e lo deve scrivere il governo non lo possiamo scrivere noi perché noi non lo scriveremo mai perché noi il fabbisogno lo accertiamo e se il governo vuole ridefinire l'EA vuole dire che molte prestazioni non si devono più pagare lo deve avere il coraggio di farlo e se lo fa deve anche dire che taglia le risorse a questo punto noi la sanità gliela ridiamo al governo come il trasporto pubblico locale e se non ci danno i soldi è meglio che se lo fa il governo il trasporto pubblico locale se non siamo autonomi ma di che cosa vogliamo parlare allora dobbiamo stringere con l'intelligenza io condivido la impostazione che avete dato voi noi non è che possiamo arrivare con lo scontro perché se arriviamo con lo scontro perdiamo perché non siamo noi a decidere non siamo noi a mettere l'ultima firma e quindi varrà sempre la firma che si mette alla fine allora noi dobbiamo arrivare lì con quelle idee che tu hai detto condivise a invarianza di spesa su quei parametri che sappiamo sui quali possiamo avere con il poco di flessibilità che ci viene consentita e ci vuole un accordo e devo dire devo registrare purtroppo ahimè tu lo sai che non è facile come più volte abbiamo tentato di mettere insieme le amministrazioni locali e la politica locale l'istituzione locale ma anche gli esperti per non parlare di politica gli esperti che hanno opinioni diverse hanno realtà territoriali diverse quindi ognuno tira per la sua parte quindi ti strappa da destra ti strappa a sinistra poi ti guarda avanti e indietro anche sulla sanità non è facile ma io confermo la mia disponibilità e ho anche detto e tu lo sai che non siamo in grado di poter muovere nulla di realmente voglio dire forte sul territorio se non c'è l'intesa cioè se non c'è la comunità locale se non ci sono i sindaci che comprendano in maniera propositiva e non strumentale perché io per realtà ho avuto qualche sindaco che in privato mi diceva una cosa e in pubblico poi ne diceva un'altra però insomma ci dobbiamo capire perché se poi in privato mi si dice che la cosa si può fare e poi non si ha la capacità di affrontare all'esterno un tema complicato perché qua siamo tutti a fare una missione difficile che non è dare ma purtroppo quando c'è crisi anche di togliere e insomma dobbiamo avere il coraggio poi di affrontare una volta che ci siamo messi d'accordo quali sono i problemi che dobbiamo affrontare però questo tavolo io te lo riconfermo credo che debba essere fatto e essere riconfermato non solo in ambito di piano aziendale dell'ASL ma eventualmente anche a livello centrale perché credo che alcuni presidi ospedalieri soprattutto nella logica dell'accorpamento dell'ospedale del Sele viene un po' fuori da una cosa ordinaria ma ha un impatto di carattere straordinario anche sulle politiche regionali quindi io sono d'accordo sentirò il direttore generale dell'ASL sentirò tutti chi è preposto per ritornare sul tema per vedere diciamo tutta l'area del Sele quella che era destinata all'area del Sele all'ospedale del Sele come debba essere riorganizzata fino a arrivare eventualmente all'appuntamento di una riorganizzazione più complessiva che non è detto che sia quella che è scritta nel 49 perché oggettivamente vedo delle oggettive difficoltà quindi su questo l'impegno ci sta non sono in grado di prendere un impegno più grande perché sarei poco serio quindi dobbiamo decidere insieme cosa fare e questo vale per la sanità e anche per il turnover perché il blocco del turnover a noi ci è dato per legge nazionale e noi stiamo con 8.000 dipendenti in meno sulla media nazionale cioè la Campania ha un sottorganico di 8.000 persone e di 8.000 significa tra medici personale non medico ma insomma infermieristico d'altro personale amministrativo questa è la media e in più abbiamo come sapete un pro capito di 70 euro in meno trasferito perché il mezzogiorno ha pagato il prezzo di un decreto legislativo che ha costruito su non quattro parametri previsti dalla legge perché la legge ne prevede quattro di indicatori e gli indicatori sono l'anzianità della popolazione in questo caso va bene solo a te ma visto che il regionale non va bene se non abbiamo un solo comune l'anzianità della popolazione l'epidemiologia la situazione socio-economica e gli indici di mortalità io preferisco chiamare gli aspettativi di vita però sono la stessa cosa allora se noi mettiamo questi quattro parametri noi su uno perdiamo finanziamenti che è quello dell'anzianità perché siamo la regione più giovane di Italia e guarda caso quel decreto legislativo ha applicato solo il parametro dell'anzianità quello 2009-2010 solo quello dell'anzianità che doveva essere sperimentale per un anno in Italia le cose sperimentali diventano definitive e quindi noi non abbiamo applicato gli altri tre parametri che invece aiutano il sud perché questi tre parametri sono i parametri che sono purtroppo sulle aspettative di vita siamo in alcuni casi in alcune classi d'età sotto di 12 mesi 12 mesi gli aspetti socio-economici sono ben noti in termini di PIL di prevenzione eccetera quindi è evidente che sugli altri noi saliremmo e sapete cosa significa perdere 350 milioni di euro l'anno perché 70 euro pro capita sono 350 milioni di euro l'anno l'ospedale del Sele costa meno l'ospedale del mare quello di Grande di Napoli costa più o meno 300 milioni di euro sono cinque anni che perdiamo queste risorse avremmo fatto cinque di questi ospedali o forse avremmo potenziato gli ospedali che ci sono non è che voglio dire che bisogna forse fare i grandi presidi ma guardate quante cose hanno tolte quanta sanità avremmo potuto dare ai nostri cittadini ben amministrandola con 350 milioni ma la cosa che abbiamo voluto fare noi è rendere credibile la campagna perché noi al tavolo anche per chiedere questo non ci potevamo arrivare con un disavanzo sanitario di circa 700 milioni di euro l'anno noi avevamo un debito un disavanzo ogni anno producevamo 770-800 milioni di euro di deficit quindi si chiama disavanzo quella sanità che veniva pagato dagli altri e quindi che cosa è successo nel 2009 hanno detto dovete smetterla di fare il suo disavanzo dovete rientrare noi quest'anno saremo al secondo anno di pareggio di bilancio voi sapete che il pareggio di bilancio è una forchetta del 5% quindi tu puoi stare poi sotto poi tutta Italia è questo qui il pareggio di bilancio per il secondo anno accertato ma avremo una riunione il 10 molto complicata perché sarà la riunione del famoso tavolo di valutazione di verifica quindi un tavolo che ci guarda come se noi ci mettiamo sai come si fanno gli alunni che si mettono qui e devono rispondere al tavolo di tutti i ministeriali che sono lì che ti dicono se hai rispettato con le loro tabelle e se rispettiamo come purtroppo la legge ci ha obbligato ma per fortuna il tutto finisce nel 2014 perché io non so chi allora ha avuto il coraggio di firmare quell'accordo tutti quanti lo disconoscono ma qualcuno della regione Campania la firma ce l'ha messa nel 2009 qualcuno ce l'ha messa quella firma e quindi quel caso lì si è vincolato per 5 anni perché non si poteva cambiare la norma se non all'unanimità di tutte le regioni pensate un po' le regioni che prendono risorse a scapito nostro perché avrebbero dovuto consentirlo non dovevamo firmare noi o dovevamo firmare un accordo diverso ma detto questo una volta che siamo arrivati in pareggio di bilancio il secondo anno abbiamo lo sblocco del turnove quindi possiamo iniziare non solo il 15% che siamo riusciti a strappare l'ultimo anno ma possiamo andare sul regime nazionale che come sapete va dal 25% al 50% secondo le annualità questo ci permetterà di avere un po' di ossigeno sulle nostre strutture sanitari considerando che poi la sanità è per la regione Campania parlo della regione il 75% del bilancio quindi se hai conti in ordine sulla sanità vuol dire che grosso modo hai conti in ordine e che non sono voglio dire un esercizio ragioneristico i conti in ordine sono la precondizione per lo sviluppo cioè se noi mettiamo i conti a posto per la sanità ci sbloccano le risorse e ci sbloccano il turnover allora come vedete non è un esercizio ragioneristico e se riusciamo a fare le cose che abbiamo fatto sui fondi europei cioè a consolidare una virtuosità sull'Europa ci permettono i programmi paralleli di accelerazione della spesa quindi ci permettono una spesa maggiore quindi come vedete la credibilità dei conti è condizione per avere risorse per lo sviluppo che è quello che abbiamo fatto concludo con l'ultima questione che riguarda ed è stato un tema devo dire molto usato che ho voluto molto portare avanti all'inizio del 2010 sulla cosiddetta fiscalità che non chiamerei di vantaggio perché quelle sono le aree franche io le aree franche non credo molto per questo personale credo più alla logica delle aree interne cioè a politiche di sviluppo locale le aree franche sono molto piccole devono essere mirate ad alcuni tipi di attività si devono specializzare le attività se tu c'hai l'area onautica di un certo tipo l'automotive il tessile di un certo tipo puoi fare una zona franca per quel tipo di settore che controlli ma diffusa non ha grande senso è fallita insomma in Europa però sicuramente politiche territoriali come quelle delle aree interne che è molto più complessa dove tra l'altro ci entrano tutte le problematiche delle aree parco che puoi andare a ridefinire in una politica delle aree interne lì come sapete abbiamo già previsto un pezzo di quest'area vediamo come la possiamo rimodulare facendoci entrare tutti quelli che ci vogliono entrare l'abbiamo prevista su tre aree regionali una è l'Irpinia storicamente area interna è un pezzo del Beneventano e dell'Avellinese dell'Irpinia l'altra è il Matesino quindi la Caserta Alta e siamo riusciti a costruire anche in quest'area come sapete nella provincia di Salerno perché sono beneficiari di circa 500 milioni che sa un programma solo per le aree interne nazionali tra l'altro partiranno delle sperimentazioni piccole ma partiranno a breve quindi sicuramente è una grande occasione per chi sta in queste aree per poter essere titolare di un programma quindi siete titolari di un programma nazionale che comunque oggi è di 500 milioni ma non è detto che non possa essere incrementato se ben spese le risorse se c'è un tiraggio anche con le riprogrammazioni come si è fatto in altri casi e per concludere sulla fiscalità io avevo previsto all'inizio delle mie attività visto che la spesa non era veloce ho detto andiamo sulla fiscalità compensativa non di vantaggio noi abbiamo le imposte più alte d'Europa per il debito sanitario quindi i nostri cittadini già pagano le tasse più alte quindi noi dobbiamo andare a compensare usiamo i finanziamenti europei che in 24 mesi nei due anni di chiusura programmi dedichiamo un miliardo di euro alla fiscalità compensativa cioè abbassiamo le imposte ma non di vantaggio le abbassiamo secondo quella che l'asticella che l'Europa ci consente che come sapete l'Europa non ci consente di andare in in situazioni che poi non crei disparità territoriali no? di vantaggio cosiddetta di vantaggio ma compensativa sì cioè noi almeno tentiamo di abbassare le tasse come la pagano altri cittadini d'Italia non è che vogliamo chiedere di più questo non è stato possibile perché l'Europa ci ha detto che non è che non era fattibile la fiscalità compensativa cioè andare sull'IRAP soprattutto perché era più facile fare sull'IRAP e non sull'IRAP purtroppo però comunque sull'IRAP era un fattore per le imprese comunque di sviluppo e non si poteva andare lì perché è una politica regionale l'Europa concepisce guardate che rigidità le politiche fiscali come politiche nazionali quindi o lo fai per tutto il territorio nazionale o non lo puoi fare per un territorio regionale perché creerebbe in teoria disparità locali noi tentammo di dire allora ci mettiamo al passo con le condizioni regionali medie per non creare disparità ma devo dire la certa rigidità ci ha impedito di chiudere un accordo del genere però è un tema sul quale dobbiamo almeno nella programmazione 14-20 ritornarci e andare a dire se ci conviene però questa è una scelta che è politica e istituzionale che dovremmo fare tutti insieme io veramente concludo e vi ringrazio di questa giornata è la prima che faccio dopo l'accelerazione della spesa in un programma che io voglio fare insieme a voi con i sindaci nei territori dove chiaramente il Presidente della Regione è invitato perché io non stimolerò questi incontri mi fa piacere che questi incontri siano nascano dalla sistema dell'autonomia locale che nascono dai sindaci che nascono dalle popolazioni locali per essere riuniti come hai fatto tu qui oggi in questa giornata importante di quest'area territoriale così strategica per la nostra regione e discutere nel merito di come affrontare i problemi senza imbrogliare i nostri cittadini che hanno bisogno di lealtà di capacità e di serietà e di poterlo fare con gli strumenti che abbiamo sapendo che se siamo bravi e siamo stati premiati con le migliori performance italiane su tutti questi temi che la campagna può diventare passare dalla cosiddetta regione canaglia come è stata giudicata per tanti anni una regione che è un punto di riferimento nel nostro paese non solo sulle capacità di garantire un controllo della spesa ma soprattutto di fare spesa di qualità grazie e buon lavoro a tutti grazie grazie presidente non erano previste domande da parte del pubblico presidente vuole rispondere tre anni fa ho fatto una domanda a Piecina che fine facevano tre anni fa la ripeto di nuovo stasera grazie una domanda semplice semplicissima grazie mi diceva il sindaco che ha previsto un incontro proprio con una delegazione però posso informare a chi non è idraulico forestale quindi non si occupa di forestazione ma noi siamo dall'altra parte sì sì ma presto detto sull'argomento io sono intervinto più di una volta sull'argomento la spesa per la cosiddetta forestazione e quindi di fatto per il 90% sugli stipendi dei idraulici forestali era una spesa che la regione teneva nella cosiddetta quota indebitamento era un pezzo di quei 600 milioni di euro che facevano il debito della regione cioè non era nel bilancio regionale 2009 quando io mi sono insediato il governo e la commissione europea per i vincoli di bilancio noi avevamo superato la quota indebitamento consentita ci ha impedito per legge di fare l'indebitamento di 600 milioni io dico chi ha fatto quelle cose allora lo sapeva quello che avveniva era consapevole perché le norme già c'erano non avendo messo in bilancio non era facile una cifra consistente che supera i 100 milioni di euro allora per idraulici per la forestazione quella cifra lì di fatto tecnicamente ha voluto dire che si chiudeva la forestazione quando io sono subentrato nel 2010 e non c'era questa copertura ho dovuto trovare e devo dire con l'aiuto dei comuni e anche di molte comunità montane prevalentemente quelle più virtuose intendiamoci abbiamo giocato su quello che era rimasto in cassa cioè abbiamo fatto un lavoro di pulitura del bilancio nel capitolo di bilancio per vedere nelle singole comunità montane nei singoli comuni nelle singole realtà cosa era rimasto si ma me lo conoscono bene la situazione si si poi la questione poi di chi poi dicono una cosa e poi un'altra scusami fammi finire io ti descrivo le cose come stanno poi possono piacere o no ahimè purtroppo non è che piacciono sempre le cose che si descrive parlo tecnicamente che è successo che noi abbiamo recuperato anche per il gran lavoro fatto devo dire dai sindaci da quelli che erano in grado di fare questo lavoro di recuperare delle risorse che erano rimaste in cassa e siamo andati avanti per un anno un anno e mezzo io ho detto al governo ma che facciamo con la forestazione chiudiamo perché io ho parlato con i vari ministri ho detto ma se non mi permettete l'indebitamento questi fondi dove li prendo visto che tra l'altro non è una competenza diretta alla regione la regione deve fare da passa risorse un po' come il TPL locale noi dobbiamo avere i fondi e i fondi li dobbiamo dare alle realtà locali perché non siamo noi direttamente i datori di lavoro noi siamo responsabili della forestazione ma non gestiamo la forestazione la gestiscono le comunità montane ma se questi fondi non ci sono che gli diamo alle comunità montane e ai comuni che non ci sono dopodiché abbiamo perso un anno perché il governo ha detto per quanto ci riguarda c'erano forze politiche in Parlamento e soprattutto quelle del nord che dicevano che non esisteva proprio niente che non c'erano deroghe che non si doveva si dovevano arrangiare testuali parole si dovevano arrangiare i comuni e dicono ma i comuni dovevano prendere i fondi per pagare questi operai e soprattutto al di là dei pagamenti degli stipendi come si fa a fare la forestazione senza soldi e visto che la forestazione è un obbligo poi ci puoi mettere poco o molto è un obbligo cioè tu l'attività la devi svolgere perché è una competenza di legge non è che la puoi fare finta di niente allora che abbiamo dovuto fare abbiamo lavorato con difficoltà con grande difficoltà anche lì prima confitto e poi abbiamo chiuso l'accordo con Fabrizio Barca che devo dire abbiamo detto vogliamo dare la copertura definanziando il programma perché l'Europa non ci consentiva il pagamento della forestazione allora che abbiamo fatto abbiamo recuperato questi fondi li abbiamo messi nel piano d'azione e coesione quindi abbiamo recuperato circa 60 milioni di euro l'anno per tre anni è evidente che teniamo un anno e mezzo di buco questo anno e mezzo di buco è stato compensato con alcune comunità al montane che hanno recuperato dei soldi che avevano quelle che erano più in difficoltà di cassa chiaramente non hanno trovato queste risorse quindi noi abbiamo ora coperto la forestazione con progetti che purtroppo non possono andare come andava il debito direttamente in cassa devi produrre progettazioni quindi devi fare attività che sono rendi contabili ma non rendi contabili come ci chiede l'Europa ma più o meno simili perché fortuna il piano di azione e coesione non è così complicato da certificare come quello europeo però va certificato perché sono progetti io spero e mi auguro che questa copertura che abbiamo trovato per tre anni che noi abbiamo iniziato nel 2013 quindi 13, 14 e 15 quindi teniamo 60, 60 e 60 per i prossimi tre anni dà una prima grande risposta a un problema che è ancora in sofferenza perché ci sono stipendi arretrati e soprattutto ci sta l'attività che deve ricominciare nello stesso tempo però stiamo prevedendo nel 14-20 perché io voglio arrivare a una copertura fino al 2020 non basta arrivare fino al 2015 il 2015 è fra un anno e mezzo quindi abbiamo chiesto al governo nella programmazione 14-20 sulla parte della quota cofinanziamento del 14-20 quindi dell'FSC di prevedere anche fino al 2020 questa copertura almeno che rimanga dell'importo che abbiamo previsto perché più di quello non ce la facevamo ora che cosa chiedo io e l'ho chiesto ai comuni e lo ribadisco ai sindaci e lo dico ai titolari della gestione delle cosiddette comunità montane noi dobbiamo superare il concetto di comunità montana lo dobbiamo superare non perché la comunità montana sia una brutta cosa perché non lo è dobbiamo fare in modo che la responsabilità e la gestione di un servizio sia acquisito come titolarità da chi lo deve svolgere perché se tu costruisci una irresponsabilità di spesa cioè io tutto quello che tengo te lo chiedo a te che stai sopra e quello che sta sopra non ha più risorse perché lo Stato non te ne dà più non è la buona strada allora tu devi dire quelle sono le risorse che abbiamo trovato più di quelle allo Stato non ci sono anche se io ho un impegno che se riesco a fare politiche di bilancio come le stiamo facendo se liberiamo qualcosa nel bilancio ordinario vandranno sulla forestazione e sull'ambiente perché noi teniamo questi due problemi sospesi quindi se noi andiamo su 60 milioni se siamo bravi possiamo agganciare qualche decina di milioni di euro di bilancio ordinario alla forestazione e all'ambiente questo è già un impegno che abbiamo preso come giunta nei nostri programmi però dico i comuni vogliamo organizzare le comunità montane che cosa sono se non una forma di unione dei comuni in forma più strutturata però rischiamo che sia deresponsabilizzata cioè che non si metta insieme capacità di programmare a responsabilità di spesa e devo anche dire però che alcune comunità montane hanno funzionato bene quindi non è che possiamo criminalizzare tutte le comunità montane ci sono comunità montane che nel momento in cui c'è stata la crisi sono riuscite a metterci dell'oro però aspetta ti metti dalla parte giustamente del lavoratore quindi rivendica e lo so lo capisco bene e rivendica giustamente maggiore attenzione però io devo dirvi la verità perché non posso stare qui a imbrogliare i lavoratori non l'ho fatto nella mia vita e continuo a non fare e io dico sempre la verità anche quando dispiace devo dire però sulla forestazione vi assicuro perché credo che non possiamo fare macelleria sociale in un momento così difficile per il paese i sacrifici li stiamo chiedendo a tutti e devo dire purtroppo i sacrifici li fanno prevalentemente i lavoratori perché se noi guardiamo l'assetto regionale sia sul trasporto pubblico locale che sull'ambiente noi il grosso del sacrificio lo stiamo chiedendo ai lavoratori non c'è niente da fare perché quando devi ridurre la spesa la prima spesa che incide è la spesa del personale ed è quella purtroppo ahimè più facile da aggredire dal punto di vista della contabilità pubblica quando i soldi non te li danno la prima cosa purtroppo che capita è quella quindi abbiamo voluto fare uno sforzo enorme per trovare risorse da dove non c'erano per finalizzarle in particolare con la forestazione quindi anche in questo la forestazione sono tutti i lavoratori della forestazione che hanno tutto il diritto a lamentarsi soprattutto per gli arretrati che sono una cosa gravissima che chi lavora o stipendio lo deve avere perché è un diritto c'è poco da fare quindi questo livello di sofferenza devi sapere che almeno per quanto riguarda le politiche regionali sulla forestazione ci ha messo il massimo di risorse nessuno ha avuto tante risorse recuperate nel piano di azione e coesione se vedete tutte le cifre vi sfido ad andare a vedere al di là dell'accelerazione della spesa ma quelle sono infrastrutture guardate il corpo delle misure anticrisi non troverete una cifra più grande della forestazione quindi ha voluto dare priorità a quella cifra sperando di poter lavorare anzi sono convinto di poter lavorare con un po' di tempo garantendo almeno la copertura di 60 milioni di euro quindi insomma che quella è sicura per andare eventualmente a incrementarla dove ci sarà bisogno nei prossimi anni e poi mano a mano a razionalizzarla perché credo che sia interesse anche vostro trovare la certezza dello stipendio e di un buono stipendio da poter governare però su questo io sono pronto chiaramente a discutere con voi anche nel merito Presidente grazie per la sua risposta vorrei domandare se avesse voglia di rispondere a qualche domanda dei giornalisti oppure preferisce che l'incontro si chiuda qui Presidente direi di fermarci a questo punto lo so ce l'ho anch'io allora ci fermiamo qui anche perché gli abbiamo rubato tanto tempo grazie per essere stato con noi buon rientro e buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti